Una giornata con Papa Francesco. Voci, impressioni, opinioni e testimonianze raccolte nel corso della visita del Pontefice a Carpi e Mirandola. Una giornata molto bella, una giornata davvero particolare, avere il Papa così vicino alla nostra Diocesi, tra l'altro nel suo saluto finale ha ringraziato tutti i Vescovi della Regione, anche il Vescovo di Modena. Sì, a parte il Vescovo di Modena è stata una giornata molto bella, organizzata bene, la Diocesi di Carpi ha retto bene, direi anzi ha proprio coordinato tutto, il Papa come al solito è stato semplice e profondo, ha impostato tutto sul rialzarsi, sul risorgere dal sepolcro e ha fatto anche il cenno alle macerie da cui questa zona sta risorgendo. Direi che è stato un momento di fede e anche di amicizia, di relazione molto bella. È stato, secondo me, significativo anche che abbia ricordato a braccio che erano presenti 4.500 ammalati, che in effetti è significativo perché la Chiesa e la società non sono fatte solo di persone efficienti e sane, ma anche di persone che sono per vari motivi bloccate o rallentate. Il Papa, appunto, come ricordava, ha parlato di questi ammalati, ha parlato del sisma del 2012, insomma, quindi possiamo dire che è una visita a una periferia in un qualche modo, anche questa che c'è stata oggi a Carpi. Certamente è in linea con lo stile di Papa Francesco, che però non disdegna i centri. Una settimana fa era a Milano, la diocesi più grande del mondo, oggi è a Carpi, una delle diocesi più piccole del mondo, come ha ricordato anche il Vescovo Cavina, perché chi è cattolico abbraccia tutti, non fa distinzione di grandezza, di quantità, di bellezza, di ricchezza e il Papa mi pare che voglia dare questi segnali, lui vorrebbe arrivare a tutti. E invece, insomma, avete avuto modo di scambiare qualche parola, solo un semplice saluto oppure qualcosa di più? No, io gli ho fatto un semplice saluto e lui mi ha dato la mano, non ho voluto importunarlo con riflessioni particolari. Don Alberto, che importanza ha per il territorio, in senso lato ovviamente, questa visita di Papa Francesco a Carpi, da Nonantola, che è uno dei luoghi che è stato colpito in modo meno importante, ma comunque significativo, dal terremoto di cinque anni fa? Ma sì, noi sentiamo questa visita anche un po' come una visita che ci riguarda, perché è una visita alle persone colpite dal terremoto, qui a Carpi è stato molto più intenso, a Nonantola abbiamo ancora alcuni edifici storici da recuperare, tipo l'abbazia e altri edifici, però è un momento bello di chiesa, che credo sia bello vivere specialmente con tanta gente, tanti ammalati, tanti ragazzi e tante persone che sono venute per celebrare insieme al Papa. Voi seminaristi, insomma, avrete questo privilegio di pranzare anche insieme al Papa, magari non nel suo tavolo, ma comunque nello stesso momento? No, pranzeremo proprio nello stesso tavolo e c'è anche chi avrà la fortuna appunto di sedersi di fronte a lui, vediamo anche un po' tra di noi cosa sceglieremo nella più totale serenità e amicizia. Don Federico Pagoni, rettore del seminario di Modena e vicario episcopale, insomma, quanto è bello, quanto è importante questo dono della visita del Papa qui a Carpi e poi anche insomma per il seminario appunto, questo momento insieme al Santo Padre durante il pranzo. Sì, già questa celebrazione credo che sia un momento forte, non solo solenne, certo solennissimo, ma forte di chiesa, chiesa innanzitutto di Carpi, noi ci associamo, ci associamo come chiesa di Modena a questo momento di grande festa, di grande gioia per la presenza del Papa. Credo che anche per i seminaristi sia un momento di grande trepidazione, non capita assolutamente in modo ordinario questa occasione del genere. quindi anche per il loro cammino di discernimento, credo, anche per il loro cammino verso la scoperta un po' della loro vocazione, serva questo momento qua, sia utile, sia efficace. Il Papa ha questa grandissima capacità tra l'altro di trasmettere la fede con questo entusiasmo che non ha bisogno di parole, quindi io credo che già anche l'incontro, e speriamo anche l'incontro dopo la celebrazione, nel momento del pranzo, aiuti i seminaristi a sentirsi consolidati, rafforzati nel loro cammino di discernimento. E spero che questo sia di contagio positivo anche per altri giovani, per tanti giovani che i seminaristi che come chiesa conosciamo, cioè si trasmetta questa bellezza della immediatezza del Papa, nelle relazioni così umane, nel contatto con la gente e soprattutto con le persone più in difficoltà. Ecco, che sia questo soprattutto che ci rimanga, questa capacità di Papa Francesco di mettersi a servizio degli ultimi, di chi più in difficoltà e contagiare tutti nel cammino della fede.